buongiorno a tutti bentornati su mad gaming in nostra compagnia siamo tutti consapevoli che oramai mancano poche live prima del lancio del titolo e alla svelarsi di come di come sarà realmente il gioco ma prima di queste continuiamo ad avere parecchie informazioni da twitter dove gli sviluppatori anche stavolta lanciano una frecciatina ai titoli concorrenti come destini 2 thomas singleton il producer ha infatti dichiarato che la bioware dopo aver studiato i concorrenti non vuole fare lo stesso errore di casa bungie e che si sta concentrando sulla storia e personalizzazione per dare al giocatore di anthem tutto quello che fino ad ora non ha ricevuto in game negli altri titoli inoltre prima di passare a quello che si è detto durante la live è che il gioco sarà fruibile in solo ma che in questa specifica modalità si perderà molto della sua bellezza infatti il titolo è studiato per essere giocato e fruito in gruppo parole del producer non mie dopo questa loro dichiarazione ovviamente si spera che tutto il sistema riguardanti clan e la parte social del gioco abbia un peso importante nel suo svolgimento fatta questa introduzione andiamo a parlare della live come sempre bioware dovrebbe dare delle info interessanti nelle sue live marullo di tamburi in realtà ci avevano viziato con le live precedenti hanno fatto vedere l'interceptor ora non dico che la live sia stata indecente perché stavolta non lo è stata certo che potevano fare qualcosa di più ma almeno si è vista dall'inizio alla fine senza bug lag o minchiate varie e tra poco vado a staccare voi magari non lo sentite ma c'è un cane dei miei vicini che continua ad abbaiare da tipo due ore potrei ucciderlo comunque parliamo della live che c'è stata intersector finalmente lo si è visto anche se sul sito ufficiale ci sono le spiegazioni le caratteristiche che vedete qua schermo e di cui ringrazio prontamente ragazzi i ragazzi di play spray di play price o di ficare iscrivetevi al loro facebook per queste immagini cosa si può dire live interessante ci hanno mostrato una nuova missione in una sottospecie di miniera con le schiene aurora che devo dire sono veramente spettacolari in sé si sapeva come l'interceptor avrebbe funzionato ma vederlo in azione è tutta un'altra cosa velocità colpi concatenati in corpo a corpo veramente ben fatto la somiglianza in questo caso con i movimenti e le armature di warframe è fortissima si nota l'impronta in questo javelin dell'influenza warframe soprattutto nei movimenti che di stare fermo e correre normalmente non ne ha proprio voglia i tre capoccioni live ci mostrano le potenzialità di questo strale la sua velocità ed efficacia nell'entrare uscire dai combattimenti nel volo acrobatico nel corpo a corpo spettacolare ci danno una dimensione di quello che è lo strale più leggero dei quattro e che fino ad ora sembrava anche quello più debole beh non è per niente così anzi ci hanno dimostrato che pur nella sua fragilità l'interceptor si ritaglia un posto di tutto rispetto tra i colossi accanto a lui in realtà ci mostrano anche un'altra piccola cosa fondamentale che però passa inosservata l'utilizzo delle combo su cui gli sviluppatori hanno puntato molto in più occasioni precedenti ci hanno dimostrato a quanto le combo tra i vari javelin facciano un effetto enorme ma solo in questa live si vedono nel dettaglio cosa un'abilità usata al momento giusto diede vantaggi concreti e reali contro i poveri mob che si si che gli si parano davanti aiutando ovviamente i propri compagni questa è forse la novità più importante mostrataci e che sottolinea quello detto su twitter e riportato inizio video cioè in gruppo questo gioco si apprezzerà di più solo a fine video si è scatenato il putiferio in chat in quanto si aspettava l'annuncio dei clan o comunque della parte social ma ovviamente bioware ci ha fatto attendere per capire che questa loro voglia di far apprezzare giocare in gruppo questo titolo si interi con la creazione di una community che sta sempre più crescendo con questa in realtà la live si conclude e noi ci vediamo con i prossimi aggiornamenti ciao a tutti